Io so quali sono stati i tuoi timori per entrare a far parte di questa avventura. Io so con quanta paura tu hai accettato. Eppure, nonostante tutto, nonostante i tuoi acciacchetti, tu sei ancora qui, pronto a dispensare gioia, allegria, divertimento, spensieratezza e soprattutto a suscitare tanta simpatia. Per cui non mi rimane che calarmi ancora una volta nei panni della tua adorata passerotta e dirti, nel linguaggio che tu ben conosci, la cosa che tu più ami sentirti dire da me. Cip, 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 cip. Cip, 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 c di divorzare scusami Valeria sei stupenda